Grazie a tutti. La fase scendente i punti persi non si ritrovano più, quindi dobbiamo andare alla ricerca dei tre punti, sappiamo che è una partita molto simile a quella di Caserta dal punto di vista dell'avversario che ha bisogno di punti per tirarsi fuori da quella situazione classifica, ma noi abbiamo le nostre ambizioni e dobbiamo essere molto ma molto bravi a farle girare, a parte la prestazione, neanche determinati episodi in favore nostro. Le previsioni meteo lasciano ipotizzare un campo al limite della praticabilità? Sì, questo è un altro aspetto su cui questa settimana abbiamo attenzionato e abbiamo cercato anche di lavorare. Non voglio mai alibi, è normale che se le condizioni del terreno di gioco dovrebbero essere quelle che vengono preannunciate sarà più difficile cercare di proporre il calcio che stiamo proponendo o cercando di proporre in questo momento, però abbiamo lavorato per adattare anche a una partita che se deve essere il caso deve essere anche più di battaglia, di contrasto, di aggressività su questo terreno di gioco. Siamo pronti per qualunque convenienza e i campionati di Serie C i punti si fanno sul sintetico, si fanno sul campo da biliardo e si fanno anche su campi che possono anche non essere in buone condizioni per proporre un calcio sempre simile. Quindi dobbiamo avere la bravura e ci abbiamo lavorato e lo sappiamo di essere molto agonistici per portare a caso il risultato che ci permette di continuare a pensare in alto. E questo è poi quello che dobbiamo, ecco il cambio di mentalità che è stato fatto negli ultimi mesi e mezzo è quello di dare il massimo a ogni partita guardando la possibilità perché è un gruppo che ci crede, è un gruppo importante per cercare di arrivare il più in alto possibile. L'1-1 dell'andata è più un monito rispetto alle difficoltà dell'incontro o ispira maggiormente voglia di riscatto? No, ma sono completamente partite diverse, allora fu l'esordio ma forse l'esordio in tutti i sensi perché neanche la partita di Coppa era molto attendibile per tutta una serie di motivazioni, quindi gli esordi in campionato sono ogni anno particolari, quest'anno lo fu ancora di più. Quindi credo che siamo completamente un'altra squadra noi, credo anche con tanti giocatori che ci sono all'inizio, non per stravolgimento di giocatori ma proprio nel modo di essere squadra come lo sono anche loro. Quindi è una partita completamente diversa e ripeto abbiamo lavorato su tutti gli aspetti che ci può portare questa partita. Voglio vedere domani una prestazione dei ragazzi dove mi dimostrano che ci siamo perché io noto che la squadra durante questo percorso ha acquisito quella mentalità giusta. Quindi questi sono i campi dove poi bisogna dimostrarlo. Arrivati a questo punto io ritengo che noi abbiamo le potenzialità per imporre la nostra personalità su tutti i campi. L'innesto di Giosa relativamente all'età media del pacchetto centrale difensivo è una scelta legata anche alla volontà di puntare anzitutto sull'esperienza? Ritengo che Giosa è un giocatore che è quello che un po' dicevamo per il mercato, che ha giocato tutte le partite nel Monopoli, è stato fermo perché ha avuto il Covid, quindi ha saltato qualche partita per questo. Quindi è un giocatore che è nel contesto del campionato, negli ultimi due anni è stato alle mie dipendenze a potenza, quindi lo conosco bene. Non è solo che è un giocatore che in questo Catania ci può dare tanto a livello tecnico, tattico e anche insieme agli altri sempre può aggiungere quel pizzico di esperienza e di personalità che nei momenti decisivi dove speriamo noi di esserci ci può dare qualcosa in più. Martino Schillaci per Informa Sicilia inizia il girone di ritorno, che aree si respira nello spogliatoio rispetto all'inizio della stagione? Guarda, c'è l'area quella giusta, quella che c'è sempre stata di umiltà, di voglia di migliorarsi nel lavoro settimanale e poi voglia di proporre quello che facciamo una domenica. Oggi ci viene molto più semplice perché tanti tasselli stanno cominciando ad andare al posto giusto. Non parlo di singoli giocatori, parlo di tutto il contesto, il contesto di atletico. Non è un caso se la squadra in ogni partita spinge fino a recupero, difficilmente adesso soffriamo periodi di partita dove andiamo... Quindi è cresciuta tanto da questo punto di vista, quindi essendoci questo, essendoci risultati, essendoci adesso certezze anche dentro al campo abbiamo ritrovato giocatori che quando lo dicevamo che erano giocatori fondamentali lo stanno dimostrando sul campo. Non può che esserci positività che non deve sfociare però in superficialità. Dobbiamo essere sempre sul pezzo, ogni partita sappiamo che è difficile però adesso abbiamo le armi in tutti i sensi per essere una squadra che quello che vuole può andare a prenderselo con più sicurezza. Data la squalifica di Sarau ci sarà possibilità di vedere in campo Reginaldo? Assolutamente sì. La società le ha consegnato rinforzi di qualità ed esperienza come Giosa, Sales e Russotto. Ritiene che la Rosa adesso sia al completo o pensa che manchi ancora qualche accorgimento da portare da qui alla fine del mercato? Io credo che dobbiamo parlare della partita di domani e ci sono ancora 15 giorni di mercato c'è una situazione in evoluzione, sarà la proprietà o questo nuovo assetto che si sta creando e stavo a dire possibilmente quel che rimane per migliorare ancora in alcuni aspetti la squadra però sono assolutamente soddisfatto del fatto che in pochi giorni abbiamo preso 3 giocatori di qualità per la categoria e possibilmente nei prossimi 15 giorni se c'è la possibilità in base a determinate situazioni però ripeto sempre che io lavoro sul campo, posso dare qualche indicazione, poi ci sono tante situazioni di mercato dove ci sono gli interessi della società e in base a quello poi si vanno anche a prendere i profili dei giocatori. Le ultime due domande, Fabrizio Longo per la Sicilia, se ha già avuto modo di parlare con Tacopina? Sì, ci ha voluto incontrare, si è presentato con tutta la squadra, con lo staff personalmente abbiamo parlato sia alla presenza del direttore Pellegrino, del direttore della società anche personalmente mi sono fermato a parlare, io credo che sia un uomo che sa quello che vuole quindi in questo momento ripeto è un momento di assestamento che ci sarà poi, si presenterà lui stesso parlando con noi ha dato quel pizzico, intanto è stato molto garbato, gentile in tutti i suoi modi e poi ci ha dato quel pizzico di entusiasmo ancora, ci ha gratificato anche del lavoro che abbiamo fatto quindi speriamo che le cose come dissi in quel fine dicembre stanno andando verso il giusto per il calcio Catania non a livelli personali e individuali, speriamo che la cosa vada realmente al massimo perché ripeto per me il Catania è una questione anche di aspettative, il Catania non può stare in CDC per non stare in CDC deve avere anche quella prospettiva dal punto di vista delle ambizioni, delle societarie però noi quest'anno vogliamo fare il massimo per cercare, ma si passa da queste partite quindi già da domani se vogliamo coltivare questo sogno dobbiamo andare col coltello fra i denti perché non basta solo la tecnica, non basta solo preparare le partite ci vuole sempre quel cuore, quella cattiveria agonistica per andare a cercare su tutti i campi il massimo Ultima domanda, come ha trovato Biondi in questa settimana di voci e trattative? No, Biondi come al solito, ha lavorato con grande dedizione, con grande impegno, è normale anche io ho letto qualcosa che è uscita riguardo delle mie cose, ma il ragazzo è tranquillo, lavora poi ripeto ci sono delle situazioni societarie e se mi chiedi come l'ho trovato, l'ho trovato come sempre disponibile per lavorare, per mettersi a disposizione, mi sembra che fino ad oggi abbia sempre giocato l'ha fatto anche, secondo me, in parecchie partite dando buone prestazioni, in altre come tutti i giocatori di tutte le categorie può avere fatto qualche partita leggermente al di sotto le aspettative, ma questo ci sta quindi io preferirei che questo ragazzo sia tranquillo e che ci dia il massimo contributo da qui alla fine, perché è un ragazzo che ci tiene veramente a questa maglia, lo voglio sottolineare, poi a prescindere dagli altri discorsi, ha sempre dato il massimo in ogni singolo allenamento, non parlo neanche di partire, in ogni singolo allenamento